eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty buongiorno ragazzi siamo arrivati oggi è la giornata della season one reloaded che inizia alle ore 18 per quanto riguarda il pre download i pesi e quant'altro trovate un video in alto a destra l'ho fatto ieri oggi sarà un recap completo delle novità principali che vedremo questa sera quindi mi raccomando spaccate il like arriviamo almeno a 500 mi piace mi raccomando ragazzi poi salvatevi il primo link in descrizione che è la mia collaborazione con Enebba dove troverete videogiochi scontati codepoint crediti tutto quello che volete sul mondo dei videogiochi a prezzi pazzeschi e oggi vi aspetta alle 14 live piattaforma viola se avete domande e dubbi porterò in anteprima anche altre informazioni sui download e tutto quanto quindi ci vediamo dopo pranzo partiamo con due notizie fresche fresche di giornata ieri sera ricochek anti città ha dichiarato che adesso è in grado anche di rilevare chi utilizza i cheat su nell'utilizzo di tastiera e mouse e quindi cheat che forniscono aim assist anche a chi utilizza tastiera e mouse una volta rilevato il gioco verrà chiuso e l'uso continuato di questo di questi cheat porterà a penalità sull'account infatti recentemente sono girate infinite clip a riguardo dell'eam assist con mouse e tastiera ma altra notizia non tanto piacevole quanto questa è che le ranked e questa sera che come sapete arriveranno solo e soltanto su mv3 perché su warzone si attendono tra la season 2 e la season 3 le le ranked non saranno disponibili immediatamente quindi questa sera quando sarà rilasciata la season 1 e lodi dalle ore 18 vi ricordo pre-down load e pesi in alto a destra le ranked veranno testate prima di essere rilasciate per tutti i giocatori quindi probabilmente potranno arrivare qualche ora più tardi o probabilmente domani se ci saranno problemi vi terrò aggiornati comunque alle 18 ragazzi se avete deciso di non prendere impegni per giocare le ranked fatevi una passeggiata prendetevi un vedi congelato che fa freddo però stasera le ranked sono state rinviate molto probabilmente di qualche ora ma cosa succede questa sera andiamo a vedere la roadmap completa della season 1 e lodi con le novità sinceramente più importanti prima partiamo dal multiplayer con la nuova mappa ambientata a rio de janeiro una mappa multigiocatori 6 vs 6 di medie dimensioni con un centro commerciale circondato da una main street una stagione del tram un mercato una piazza una caffetteria e spazi residenziali questa è un'altra mappa nuova oltre a mitte mappa della grecia quindi finalmente una stagione one con tre mappe nuove dopo tutte le remastered del lancio ci saranno nuove modalità multiplayer tra queste troveremo team gunfight che è ovviamente la classica modità scontro che abbiamo conosciuto nell'uno verso uno e due versus due questa volta sarà sul 6 versus 6 e la cosa curiosa è che ci saranno i loadout causali ad ogni round quindi molto carino che tutti quanti hanno le armi prestabilite e identiche arriverà per la prima volta all'interno di mv3 una modalità classica del mondo di call of duty e parliamo di quartier generale e poi tornerà la modalità infetto immancabile inutile starla a presentare la straconosciamo sarà introdotto anche l'evento dei boys ora non si sa se lo attiveranno già questa sera o nei prossimi giorni vi darò maggiori notizie questa sera non appena usciranno le patch not quindi questa sera preparatevi che prima di cena uscirà un altro tg code con le patch not complete arriverà quando sarà rilasciato l'evento dei boys una modalità ad uccisione confermata ispirata alla serie tv di the boys questa modalità molto particolare perché anziché trovare le piastrine gli operatori caduti lasceranno dosi di temp 5 dando aumenti di potenza temporanei come la sensore di visione quella termica a coloro che si affannano a raccoglierli vi darò maggiori informazioni a riguardo nelle prossime ore queste invece sono le sfide che troveremo all'interno di the boys con le varie ricompense che potremo ottenere quindi si va dalle ricompense dicendo gli armi ai doppi punti arma ai salta livelli del battle pass ad emblemi a biglietti da visita questo invece è quello che riguarda ovviamente le ranked che come vi ho detto ragazzi questa sera non saranno immediatamente disponibile all'inizio della season one reloaded a proposito apro e chiudo parentesi questa sera è stato annunciato anche un grossissimo bilanciamento delle armi quindi mi raccomando dopo vi aspetto per il secondo tg code di approfondimento intanto a questo state lasciando un bel like mi raccomando arriviamo a 500 e condividetelo per far conoscere a tutti i vostri amici le novità in arrivo questa sera vi ricordo che per giocare le ranked dovremo arrivare a livello 55 e una cosa molto curiosa e soprattutto che mi avete chiesto queste sono le modalità con cerca e distruggi con le mappe rise invasion karaki skydrow e terminal postazione con il limite di tempo di 5 minuti con le mappe invasion karaki skydrow subbase e terminal e controllo dove qui invece le mappe supportate avremo high rise invece e karaki mentre le armi ragazzi vietate gli accessori vietati le serie di punti vietate e quant'altro ancora non sono state rilasciate qui potete vedere invece a video così fate un fermo immagine delle ricompense delle partite classificate inoltre saranno come abbiamo visto su mv2 le divisioni e ogni divisione ci darà delle ricompense poi a fine stagione sarà una stagione molto breve perché come sapete poi il 7 febbraio inizia la season 2 quindi avremo bronze argento avremo la gold avremo l'iridescente fino ad arrivare alla top 250 zombies sarà la modalità trascurata di questa season one reloaded perché sarà introdotto soltanto un nuovo boss un nuovo signore della guerra che arriva direttamente dalla guerra del sud parliamo di dokabi che vanta una profonda comprensione della guerra elettronica con l'accesso ad una flotta di droni autonomi autoprogrammati pronti ad attaccare gli operatori deathbot a vista quindi nessuna novità per quanto riguarda atti che dovremo aspettare la season 2 e via dicendo ma su warzone quali saranno le novità ragazzi questo è un gran bel punto interrogativo partiamo da quelle certe con il contratto del campione che avete già visto e vi ha portato approfondimenti e troverete qui la ricompensa completa dove appunto dovremo vincere o 30 partite in totale una stagione oppure 5 partite consecutive dovremo completare i passaggi per poi attivare questo contratto del campione che ci porterà queste ricompense poi ci sarà l'evento pubblico del gulag notturno quindi molto particolare giocare di notte all'interno del gulag e poi queste due novità che le hanno annunciate per l'abr poi avete visto vi ho riportato un tg code dove le hanno praticamente annullate rinviate e dovrebbe arrivare una modalità solo con queste due novità parlo delle weapon case e parlo delle cover exfil per epilogare le weapon case sono delle ricompense speciali che possono essere molto probabilmente anche delle varianti arma ma bisogna uscire quindi sfiltrare dalla partita con la weapon case in possesso la cover exfil invece è un'uscita secondaria trovate poi tutti gli approfondimenti sul mio canale youtube c'è proprio un video rinviata alle due funzioni principali di Raven a cui hanno pensato quindi la cover exfil era un metodo secondario per uscire prima dalla partita anziché andare a vincere quindi queste due novità non si sa più questa sera se verranno rilasciate oppure no saranno però comunque introdotte due nuove armi parliamo dell'HMR9 che è un smg con alta frequenza di fuoco questa si sbloccherà tramite una sfida di sblocco dell'armatura e quindi all'interno dell'armeria ma non hanno ancora svelato il metodo questa sera lo scopriremo nel secondo tg code il tac evolvere che invece questo si completerà con le nuove sfide settimanali quindi parliamo sicuramente delle sfide settimanali della settima settimana quindi quelle nuove che si attiveranno questa sera arriveranno nuovi bundle sempre in occasione dell'evento di The Boys che non hanno specificato come vi dicevo ad inizio video se sarà attivo già questa sera o nei prossimi giorni arriveranno due nuovi bundle parliamo di Aetrain e parliamo di Firecracker direttamente sempre dal mondo di The Boys per quanto riguarda gli altri tre bundle che erano stati rilasciati di The Boys non ci sono ancora informazioni se saranno rilasciati in concomitanza e per il resto ragazzi questo è quello che dovete sapere su quello che arriverà questa sera in alto a destra trovate le informazioni sul periodo load e i pesi nelle prossime ore e soprattutto nella live oggi a pranzo avrò ancora maggiori dettagli e poi questa sera vi riporterò tutte le patch note complete con le novità i bilanciamenti armi e tutto quanto quindi ci vediamo più tardi spaccate intanto questo video 500 like e noi ci vediamo ad un prossimo video